Oh, piacevole sorpresa, ci troviamo qui davanti alla sala danza Margherita di Giaveno e guarda qua chi trovo, il presidente della Proloco di Città di Covazze, Paolo Vigni. Allora, di solito non si trova quasi mai nel, come si può dire, prendersi degli attimi di pausa perché lui è sempre preso a organizzare e non a organizzare nella sua città. Hai qualche progetto da dire ai tre spettatori? Ma guarda, è una cosa che abbiamo proprio combinato in questi giorni qua, che dal 19 di aprile fino al 31 di ottobre, tutti i venerdì, per 30 venerdì, a Covazze balleremo tutti i venerdì, proprio perché abbiamo un pubblico che ci tiene e questo, e finiremo con la serata di aula. Puoi accennare a qualche orchestra, diciamo... Ne ho due, che sono Mauro Levrini il 14 di agosto e Meo Tomatis il 15. Poi avremo una novità quest'anno, perché abbiamo circa investito 2.000 euro per premiare i ragazzi di Mister e Miss Covazze, dove prenderemo delle persone che faranno degli sketch e una cosa altra, avremo anche il nostro fotografo che verrà a suo fare. Giorgio Balso, quello di Viva la Pesta. Sì, lui è... Onnipresente ormai, fotografo delle grandi orchestre. E poi con Pescatore stiamo ancora trattando per altre due orchestre. Non bisogna dimenticare l'organizzazione calopescatore.it. Ma io posso dire una cosa come veterano di queste Proloco che con Pescatore mi sono sempre trovato bene, perché le Proloco devono chiedere quanto costa un'orchestra, però poi se vogliono sapere il prezzo finale devono chiedere a Pescatore, perché lui riesce sempre, per non lasciare scappare i clienti, fare qualcosina in meno. È successo solo per queste due orchestre che ho citato prima, perché tramite lui e tramite Bagutti sono una potenza. O accettiamo queste cose qua, o se no fai da te, fai da te ha dei rischi. Io ti ringrazio molto Paolo di questa informazione che hai dato al pubblico, non solo qua, ma qui siamo su internet, perciò siamo su Youtube, siamo su Facebook, siamo via Ettere, come si dice, no? Perciò ringraziamo ancora la disponibilità di Giorgio Basso, ringrazio te e però trovarti la città di Giorgio Basso. Ciao Paolo, grazie a tutti, ciao ciao.